Io vorrei citare però per quello che riguarda invece la programmazione delle politiche di sicurezza quello che diceva prima il dottor Crepe che condivido lui diceva parliamo di Molenbeek dove c'è stata questa situazione di omertà che ha tutelato in maniera incredibile questo terrorista per cui per mesi la polizia belga ha brancolato nel buio senza rendersi conto che questa persona di fatto era rimasta a casa sua coperta dall'omertà di tutti e Crepe giustamente diceva stiamo attenti però che le Molenbeek le abbiamo anche molto più vicine di quello che pensiamo come ad esempio a Torino ecco vede io adesso le parlo qui da Torino dal salotto buono della città perché siamo sotto la mole ma a pochi chilometri a nord da qui c'è una parte della città che dal punto di vista dell'immagine non è molto diversa a Molenbeek abbiamo dei quartieri dove la maggioranza culturale etnica è assolutamente quella araba musulmana dove quindi stiamo creando le condizioni perché magari non oggi ma da qui a 15-20 anni si possano creare le stesse situazioni che in Francia e in Belgio si sono create anche perché Francia e Belgio dal punto di vista dell'immigrazione sono avanti a noi di qualche decina d'anni quindi noi dovremmo evitare che si creino dei quartieri ghetto delle aree della città che sono completamente fuori controllo dove c'è una predominanza etnica, religiosa, culturale di matrice islamiche in questo caso ma dovremmo cercare anche quando ragioniamo sulle nostre città di distribuire queste persone in maniera meno concentrata ma spalmarle sul resto della città per evitare di creare dei ghetti e soprattutto dovremmo, questa è la cosa principale evitare che ci sia un flusso costante di persone che provengono da quei paesi per una serie di motivi c'è una ragione di sicurezza e c'è una ragione di tenuta economica del sistema noi oggi viviamo in un paese dove un giovane su due non lavora e quindi è evidente che continuare a importare manodopera a basso costo continuare a importare immigrati non farà altro che creare delle sacche di disagio perché se non c'è lavoro si crea il disagio in cui l'odio verso l'Occidente e la matrice terroristica può emergere